Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo istituto video, io sono Alexander e oggi siamo insieme a GotBot che è un inglese praticamente ora è più scemo vedi? vedete? e quindi quest'ultima siamo insieme a GotBot purtroppo Cigliale non ha potuto giocare perchè ha detto su la magia di non giocare cioè che non può giocare cioè che vabbè avete capito che non poteva giocare ecco non so... ragazzi comunque devi chiedere qualcosa, non so manco io cosa ho inteso comunque a parte questo a control of charge ma c'è scemo perchè io non so cosa dice ecco vabbè a parte che già è scemo di lui perchè no ragazzi ragazzi giù questo è scemo proprio scemo 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 niente vedi 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 io lo chiamo GotBot perchè c'ha Got GotBot e poi con GotBot ci stava anche bene ah ok ok non so se mi ha detto l'uso o poi qualcosa troverò comunque lo prendo come un'offesa ecco che le glitch shit non c'è einge i am super cat ok faccio che dagli io molti shih c'è non che io fatta credere Forsy prendeva 8 botta e ti per capito che anche appesi poteri che pur da qualche parte avrà presi per me la sua base il paese ecco come ahahah sgamato got the boat i see you got the boat i see you got the boat got the boat i see you bye bye oh you got you glitched ahahahah e questo cosa ho detto ma va detto si guardate che sono tutti i got i am power i do 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 non no non ha preso non ci credo ecco la eccolo ho notato lo faccio da voi vedete quanto forma razza altro l'uso se che caro vabbè ti andò bene e dai dai comunque vai vai oddio quando ho fatto io non ho capito perché stati mi piace un po' per lui però ok eccolo 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 bye bye ok ok no rocket bye bye come cacchio si stoppa l'ho preso d'acqua è una donna che è sopporto 5 oh ok 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 sincretto questo dito lo troviamo troviamo al got bot vabbè non ho scherzo yeah vai vai quanti fanno un traietta la madonna 50 si è capito si è capito yo yo stop camping eh 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 ok 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 ma che voce succede quando grida momentata ok 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 dunque ok ok chi no 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 why no ma gli amici per me ok sono tornato normale ok super cat super cat super cat ok guadagnino 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 so spiega male altro che guadagnino 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 power power by by you you have something can all you do I am a hacker for two videos yeah I am a hacker no I am a hacker it's not me it's not me it's not me it's not me but it's not me but at least you have a bear got the boat got the boat no oh 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 forse vedete che io vedete che quando perde cioè ok si vuol subendo anche poi poter gioca e poi infatti che era un po strano che non riprendeva troppo dai dai core 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 no 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 questo mi fa male se mi ficchia cioè se mi prenda sotto a molto male wow oh oh ah 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 no god e no a che era il suo povera iniziali si è già di solito per il volo mai vai amo su perchè non è che odio questo normale questo fa molto male no poter me che prenderà prima fosse questo Ma come vogliono scoop tipo Ogni e' super cat Super 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 Ed è super menoso mamma E' super menoso E' un ULK ULK spaca tutto ULK spaca tutto Andiamo su per cat Che è come se avessi sentivo fosse un campionato gott bot gott bot I see you, I see you, I see you no! yes, 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 yes ok oh my god c'è come se tipo come se tipo mi sembra quasi come se tipo state facendo un torno avesse killato a uno sembra andiamo su perchè ma che a posto almeno con quelli sono senza poteri aspetta 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 spegnati a posto no è lampino però e cavolo passa via dove sei? io non so dove sei e tu probabilmente sai me ma non c'è oh sei un super cat super 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 cat ehi, posso prendere l'uomo che voglio senza sapere che voglio che voglio che cavolo che cavolo goto 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 diciamo che per me è già difficile parlare c'è già abbastanza difficile fare inglese cioè figurate che goto non ci capisce pure c'è doma che mi cazzo leggermente eh se così cosa 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 devo gridare gugi 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 è pro player next time next time ok oh 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 no per il tutto per il suo voto dai è un ma un mene gott boh vai al signor bar no gott no no ok ok so ragazzi spero che questo video vi è piaciuto lasciate mi piace commentate iscrivetevi al canale e condividete al video noi ci vediamo nel prossimo video cioè domani speriamo che ci sia anche cigiale e ciao